Ciao a tutti i farfallini e i baleni da Isabretto Pazzo! Ciao ciao ciao! Allora questa è la seconda volta che proviamo a fare un vlog, un giro. Adesso vado a Elvezia, ho fatto un video questa mattina, questo è un altro video, vediamo com'è questo trattenimento, adesso se va bene. Un video di intrattenimento che ho fatto prima, non so come spiegarvi. Adesso proviamo ad andare a Elvezia, oggi quando avevo finito di... eccoci qua, adesso si vede bene. Oggi quando avevo finito di fare la colazione, ho fatto forse ancora un'ora lì dentro, ho fatto una piccola live su TikTok e niente, sono stata un po' lì e ho preso un altro caffè. Il caffè poi me l'hanno portato subito e me l'ha portata la ragazza. Poi quando sono andata a pagare ho parlato. Sempre Lily c'era, carina questa ragazza, mi dispiace troppo perché lei si è scusata per gli altri, che non è stato giusto. Ho detto anche che il ragazzo è stato maleducato e non la ragazza, vabbè, la ragazza perché mi diceva non è il suo posto questo, però poteva prendere la portazione. Il ragazzo invece è stato proprio maleducatissimo, poteva anche dire guarda signora io non posso farlo perché mi dice così perché io non posso farlo. A me fosse stato più educato, non è assolutamente educato e niente, adesso ragazzi ho il fiatore, mi sono ingrassata eh. Niente, allora i video ai giardinati non l'ho fatto, ma l'ho fatto nella, un'altra via degli alberati, non questo, questo via, sì anche questo via degli alberati che si chiama via della passeggiata, ma ho fatto un video dove c'è il tappetto rosso, io lo chiamo così, il tappetto rosso c'è un altro via degli alberati. E niente, adesso facciamo questo giro qui verso a Lecce, vediamo cosa mi dicono, mi prendo solo un caffè perché voglio bere il caffè, non c'avevo voglia di stare a casa, ho detto, ciao, grazie, non c'avevo voglia di stare a casa, allora sono uscita e niente, adesso, anche se il caffè a casa ce l'avevo eh. Niente, adesso proviamo a vedere come mi servono, vediamo chi c'è, se c'è tanta gente come stamattina o ce n'è meno, se mi servono, non è che voglio essere servito un secondo solo eh, però effettivamente se sono prima io, mi serve prima me. E niente, adesso vediamo, sono quasi arrivata, ma che ho cerfiatone, a parte che ho bevuto l'acqua ghiacciata adesso prima di uscire di casa, sarà anche per questo, fa caldo, ecco, sarà anche questa ma direte perché mi arriva fino a qua, io ce la voglio scollata, questa è provata a me, da mi sento strozzare, strozzare, e niente, adesso mi siedo al bar, sono quasi arrivata, cosa ti diamo, vediamo come c'è, sono quasi arrivata qui qua, allora cerchiamo un posto, non mi metto il solito posto di oggi vediamo se trovo un posto dove voglio io, non esiste, dimmi che c'è, dimmi che c'è, dimmi che c'è, dimmi che c'è un posto yes, si, ho trovato il posto, ecco qua, ragazzi, sono arrivata abbiate pazienza e adesso in attesa di essere servita, comunque vi ricordo ragazzi che io mi sono seduta adesso però ci sono un gruppo di due, quattro, cinque, ci sono cinque ragazzi che sono seduti per adesso prima di me perciò vediamo un po' adesso, chi serve prima, vediamo un attimo, vediamo, pazienza allora, vediamo c'è un ragazzo che non è quello di questa mattina poi lì lì non c'è sicuramente oggi non è che è solo questo ragazzo, poveretto, si è solo, posso anche comprendere vediamo un po', intanto in attesa fumiamoci una sigaretta ciao mi porto un caffè, per favore solo un caffè? si, solo un caffè, grazie no, si, guardami anche, magari un bicchiere d'acqua un bicchiere d'acqua, grazie ciao ragazzi è venuto prima da me arriva, arriva no, questo ragazzo è bravo ah no, scusate, ho appoggiato la borsetta qui sopra però adesso vediamo anche quanto tempo si è messo dentro il caffè mi sembra solo sto ragazzo vediamo posso comprendere se è solo adesso vediamo comunque, appena mi porto il caffè io stacco questo video qua mi faccio vedere tutto il tempo di oggi c'erano delle ragazze ah, c'era anche un'altra coppia prima di me c'è una famiglia semifiale un uomo, donna e una ragazza non lo so c'erano tre persone prima di me prima di quei ragazzini che vi avevo detto e adesso vediamo poi c'è un ragazzo lì che sta aspettando c'è solo eh, ho notato è solo, poveretto adesso dobbiamo aspettare vediamo un po' dopo questa stacco dopo la pubblicherò e dopo questo qui come stavo dicendo stacco e faccio la live su TikTok però sperando che mi arriva subito questo caffè perché se no no mi si scarica il telefono ecco il ragazzo qui dietro che lo vedi è che sta aspettando il gelato adesso vediamo forse anche il signore sta aspettando il gelato o sono insieme boh, chi lo sa no, non sono insieme vabbè io mi sono spostata così anche perché quando faccio dei live su TikTok quando fumo la sigaretta mi devo nascondere YouTube non fare la stessa cosa anche tu come TikTok lasciaci liberi un po' un po' di scelta libera scelta anche per noi adesso vediamo a meno che qui mi stanno pigliando per pazza che sto parlando con voi non per niente sono esaurita pazzo volevo dire una cosa a Gabri se mi stai ascoltando Gabri se mi stai vedendo questo video ma tu avresti il coraggio di essere di stare da solo e fare il video di YouTube solo in giro come sto facendo io dammi la risposta Gabri Gannini mi sono ricordata comunque ragazzi se vi piace questo video mettete un like fate un commento commentate se volete commentare commentate se volete mettete un like mettete un like anzi mettete lì senza se volete mettete un like aspetta io sono comunque fortunata nei bar la prossima volta provo a cambiare un bar vedere non per tradire ma tanto per vedere come mi servono anche gli altri non è che io sono la chissà chi però vorrei vedere come fanno il servizio ecco tutti altri come fanno il servizio in un bar e che sto dicendo iscrivetevi mettete il like fatelo fatelo e vi raccomando fatemi crescere fatemi arrivare a mille e poi ai diecimila non so se ve l'avevo detto ma ho in programma uno scherzo e questo a breve arriverà però mi devo mettere d'accordo con i miei figli perché sto scherzo vediamo se i miei figli sono d'accordo per questo scherzo ma è uno scherzo che farò alla notte poi lo pubblicherò comunque vi sto trattenendo troppo sono già passati dieci minuti sto aspettando sto caffè come vi ho detto appena arriva il caffè stacco cos'è vediamo come si no non è da solo c'è un'altra persona sono in due no non è mi so mi dice che mi aveva detto che era da solo vediamo se portano il caffè quando portano il caffè ragazzi stacco vi lascio la libertà stacco e vado a farmi una live su tiktok mi ringrazio a tutti chi si è iscritto al mio canale youtube mi ringrazio a tutti e farò un ringraziamento poi quando arriverò ai 1000 iscritti e quando arriverò ai 10.000 iscritti vi faccio vedere il logo si dice di youtube sperando di arrivarci poi mi dite che video vi piace di più questo qui svuota la spesa slime fatemi sapere nei commenti che video vi piace io cercherò di pubblicare quello che vi piace di più adesso devo imparare bene come usare youtube a fermare tutto a stoppare mettere magari qua la pausa anche se potrei fermarlo un attimo e tagliarlo però questo dovrei farvi aiutare ragazzi vediamo un po' si arriva ragazzi è arrivato ok i signori che vi avevo detto che erano i primi giustamente grazie grazie a tutti per tiratevi al cucchino perché sa che io lo bevo amaro ecco qua ragazzi il caffè è arrivato vi ringrazio che siete stati qui fino all'arrivo del caffè l'abbiamo visto che è arrivata sono in due stamattina erano di più vi raccomando io vi saluto ragazze comunque mettete like e commentate vi aspetto numerose ragazzi iscrivetevi iscrivetevi ciao farfalline e ballone dai vado a fare la live ciao ciao